MGO Corporation è il produttore leader di pannelli inossido di magnesio più ecologici a livello mondiale. Oggi i cambiamenti dell'ambiente sono più evidenti, a causa dell'esaurimento delle risorse naturali. Tutto questo deriva dall'aumento della richiesta di risorse, dall'esplorazione mineraria, dall'aumento della popolazione e dall'incuria verso il nostro ambiente, manifestata da milioni di persone in tutto il mondo. Ogni giorno ci viene ricordato che le calamità naturali stanno aumentando, con il rischio che arrivino a distruggere il nostro fragile tessuto di vita. Il 2011 ha avuto un grande record per il cattivo tempo. Alcuni paesi sono stati distrutti con migliaia di persone che hanno perso tutto ciò che avevano. Ci sono state molte vittime e danni enormi a causa dell'avvento di cicloni, tornado, forti tempeste, inondazioni, incendi, bufere di neve, siccità e carestia. Nei primi nove mesi del 2011, le perdite derivate dalle catastrofi naturali ammuntano a 310 miliardi di dollari, con l'80% di perdite nelle regioni del Pacifico, nel continente asiatico. Nel 2012, le relazioni annuali dei routers hanno previsto un aumento di tali eventi, con una diffusione e forza catastrofica maggiore rispetto a come il mondo li ha conosciuti finora. Le grandi organizzazioni mondiali stanno aumentando le loro pressioni, affinché si trovino delle modalità di prevenzione e formazione della popolazione, sul rischio legato ai disastri ambientali, per proteggere al meglio le loro famiglie ed i loro affetti. Molte delle soluzioni proposte che parlano di prevenzione, non fanno altro che riempire le tasche di alcune società e con molti profitti, ma non riescono a fornire soluzioni sostenibili a lungo termine, per i problemi che affrontiamo giornalmente. Si sta manifestando un crescente bisogno di prodotti e servizi che siano in grado di fornire un livello di protezione più alto. Un livello di protezione non è solo il pronto intervento, la risoluzione immediata, ma anche il poter resistere ad elementi come il fuoco, l'acqua, la muffa, offrendo alle persone del mondo un ambiente sostenibile, non tossico, sano e sicuro in cui poter vivere. Magnesium Oxide Corporation ha sede in Australia. È un'azienda leader che si è sviluppata come fornitore e produttore di rivestimenti e pannelli ecologici per l'impiego nelle costruzioni degli edifici commerciali e residenziali. Sta nascendo l'esigenza di avere novità rispetto ai materiali utilizzati finora. Oggi non c'è più bisogno di usare cemento, cartongesso, impregni antitossici o prodotti ricoperti. Magnesium Oxide Board Corporation è la prima azienda al mondo di prodotti di ossido di magnesio completamente verificata, allo scopo di soddisfare il più alto livello di conformità nei singoli paesi per l'uso in edilizia attraverso le certificazioni di JAS ANZ Codemark. Le certificazioni JAS ANZ Codemark sono altamente raccomandate e riconosciute in tutto il mondo per oltre 20 paesi per offrirti un livello di protezione mai ottenuto prima. La ricerca e i test per la vostra protezione. I prodotti MGO Corp sono stati utilizzati in tutto il mondo e sono stati sottoposti a molti test in Australia, Regno Unito, America, Singapore, Turchia, Ucraina, Emirati Arabi, Cina e Venezuela. MGO Corp e i suoi partner associati si assumono un forte impegno nel continuare a sviluppare nuovi ed efficienti prodotti, in linea con le crescenti esigenze globali per un ambiente più sostenibile ed ecologico. MGO Corp continua a lavorare con organizzazioni leader nei seguenti settori. RIVESTIMENTI INTERNI E ESTARI INTELLAIATURE DI ACCIAIO IL LEGNO SOLUZIONI PER L'EFFICENZA ENERGETICA SISTEMI DI COSTRUZIONE OLISTICA PREFABRICATI ORGANIZZAZIONI SIP NO PROFIT SOLUZIONI PER COSTRUZIONI LEGGERE COMUNITÀ DI ALLOGGI E PROGETTI DI HOUSING A DISTANZA COSTRUZIONI MODULARI COMMERCIALI E PER L'INDUSTRIA MINERARIA MGO Corp ci offre benefici in molti aspetti della vita Contribuisce a ridurre i gas dell'effetto serra Riduce le emissioni di CO2 Grazie all'isolamento più sicuro e sostenibile fornisce una protezione da elementi come acqua, vento, caldo e freddo La corretta applicazione di questi prodotti nell'edilizia aiuta a prevenire gli effetti devastanti provocati dal fuoco, acqua e tempeste nelle nostre comunità MGO Corp Boards fornisce ai clienti finali isolamento acustico di grande livello, efficienza energetica, protezione dall'umidità Materiali repellenti per muffe ed insetti MGO Corp assicura che i prodotti a voi consegnati vi faranno godere di benefici e un grande risparmio a lungo termine Questi vantaggi si possono avere semplicemente con i nostri materiali MGO Corporation ha uffici in Australia America Costa Rica Venezuela Asia I nostri obiettivi I nostri scopi Ed orientamenti Vi consegniamo un prodotto davvero notevole Più sostenibile Molto conveniente La soluzione edile più semplice ed affidabile Con standard di alta qualità ed impatto positivo a lungo termine La sede di Magnesium Oxide Board Corporations si trova al 175 di Ocean Drive, Twin Waters, Queensland, Australia Per altre informazioni potete contattarci al numero 061 754 507 314 o alla email admin-lgoboard.com.au Sul nostro sito web www.mgoboard.com.au Per qualsiasi informazione in qualsiasi momento Grazie per il tempo che ci avete dedicato per scoprire vantaggi che possono offrire i nostri prodotti e servizi Grazie per la visione